Boom di contagi al coronavirus oggi in Italia. Sono 4.458 i nuovi casi su poco più di 128.000 tamponi eseguiti. Il record di contagi in campagna con 757, seguita dalla Lombardia con 683 casi. I decessi sono stati 22. In Emilia i contagi sono stati 184, numero stabile rispetto ai giorni precedenti. A Piacenza si contano 28 contagi con zero decessi.